Grazie del passaggio. Dobbiamo solo dire che la 55esima manifestazione al grado Scala Piccada, la cron scalata di velocità automobilistica in salita, è confermata. È confermata non soltanto dall'impegno preso dall'amministrazione comunale in nome del sindaco Stefano Lubrano e del presidente dell'ACI Mundula, ma soprattutto è già iscritta nel calendario della Chissai. Quindi nel calendario risulta in data 13 spostata in data 20 ottobre 2013. Dunque 55esima edizione è in calendario. Tutto è predisposto e allora abbiamo con noi Sergio Farris che non ha bisogno di presentazione e Roberto Salaris come ha presentato Micolo. Sergio Farris ha contribuito notevolmente a questa spinta, a questo impasse che da diversi anni non si riusciva a sbrogliare per quanto riguarda l'Alghero Scala Piccada. E allora prima che intervenga lui passiamo invece al pilota che di queste Scala Piccada ne ha già avuto esperienza ma vorrebbe di nuovo partecipare e allora passiamo da Roberto Salazzi. Roberto che cosa significa aver ottenuto l'Alghero Scala Piccada? Intanto era il nostro obiettivo, almeno quello mio personale, certamente quello di Sergio che siamo dati un po' da fare per cercare di mettere in contatto un'altra volta l'amministrazione con l'ACI. Adesso abbiamo messo una pietra sopra ai problemi che ci sono stati fra l'amministrazione e l'ACI di Sassari e quindi siamo pronti a ripartire. È ovvio che la strada è ancora lunga perché c'è tutta una serie di cose che devono essere ancora verificate ma comunque la data è confermata e a noi questo basta. Per quanto riguarda invece l'Alghero Scala Piccada ormai ce ne siamo tantissimi ma quello che più ci consola è il fatto che abbiamo veramente molti sulle strutture in città e al momento opportuno sono convinto che non si tireranno indietro perché sono certo che è vero che l'ACI deve fare la sua parte, è vero che il Comune di Alghero come ha confermato il nostro sindaco Stefano Lubrano e anche Alma Cardi e l'altro assessore presente ma è anche vero che tutti noi dobbiamo darci una organizzazione per fare in modo che questo evento sia ricordato anche perché è la 55 edizione. Nel mio caso sarebbe la dodicesima partecipazione, ne ho fatto 11 consecutive e vorremmo che insomma questo evento sia veramente ricordato. Adesso poi i dettagli, le aspirazioni lascio dire a Sergio che è un pochino più, come dire, positivo e ottimista di me come carattere, quindi però insomma cercheremo di fare una bella cosa. Roberto ha parlato che questa manifestazione deve essere ricordata per come sarà organizzata e allora Sergio Farris che è colui che ha lottato, vogliamo sapere come sarà l'organizzazione al di là di quello che è il patrocinio comunale, di quella che è l'organizzazione ACCI ma soprattutto tu come colui che ha caldeggiato questa manifestazione, come la intendi e come la vedresti? Intanto il merito non è solo il mio ma è anche di Roberto e gli altri amici che mi hanno dato una mano, che mi hanno seguito in Facebook perché io non sono stato capace neanche di crearlo come il sito di Facebook, me l'hanno creato per poi poter andare avanti, perciò devo ringraziare tutti quelli, poi devo ringraziare anche voi che finalmente avete, vi dico voi giornalai, avete perso il gusto di essere giornalai, avete fatto un po' di giornalisti dandoci una mano veramente perché questa Alghero Scalapicada le esorgesse, non parlo solo di voi come radio, parlo anche delle televisioni, dei giornali, la verità ci hanno supportato benissimo e questo è stato un grande aiuto, indipendentemente da tutto devo ringraziare loro, poi chiaramente devo ringraziare il sindaco di Alghero e il presidente Mundula che hanno finalmente satterrato all'ascia di guerra e si sono incontrati e qualcosa di positivo sta nascendo. Niente, poi per quanto riguarda tutto il resto è chiaro che ciò che è l'organizzazione della gara va in mano a Lacci e è sotto la loro responsabilità, io ho proposto che sotto il lato logistico debba muoversi la città di Alghero e perciò il sindaco e tutto il resto di ristoratori, alberghi, commercianti eccetera che dovrebbero vedere di collaborare nella maniera che possano farlo perché questa Alghero Scalapicada riesca meglio, perché c'è da fare una considerazione, se la gara in per sé, cioè dalla linea del traguardo, dalla linea della partenza fino alla linea del traguardo riesce bene, il merito è dell'Acci e tutti non hanno problemi a parlarne bene perché il percorso è bello, il panorama è bello, la strada è bella e la Scalapicada è solo bella, non ci sono altri aggettivi per poterla dimostrare. Il problema è far sì che chi viene per partecipare alla gara trovi una città accogliente, una città disponibile, una città ospitale e visto che fuori stagione turistica portare un po' di movimento non è male, la gente deve andare lì dicendo, il percorso è bello e lo sanno già, però la città di Alghero merita questa gara qua perché l'ha voluta fortemente, però ci dobbiamo dare una regolata a tutti, non basta Sergio Farnes, Roberto Salare e altri due cretinetti che perdono il tempo per questa gara qua, perché ritorno a dire sempre che la gara non è né dell'Automobile Club né di Sergio Farnes e Company ma è solo ed esclusivamente della città di Alghero. Ecco tu ti eri impegnato diverse volte invece per quanto riguarda la partecipazione dei piloti, delle varie squadre, dei vari team che sono sparsi per il campo nazionale, oltre a quello naturalmente isolano. Com'è oggi il richiamo da parte tua ma soprattutto la risposta di questi? La risposta è positiva perché io di amici su in Italia ne ho tante, li avevo già contattati prima, mi hanno dato una mano anche su Facebook per spingere questa iniziativa, li ho contattati e anche... ...e anche... ...e anche... ...e anche... ...e anche... ...piano piano estrapolarli da Sergio. Ritorniamo invece da Roberto Salaris chiedendo appunto a lui che fa parte di quella serie, classe dei piloti Sarti. Come hanno preso che l'Alghero Scalapicada ritorna in calendario? Io ho già sentito tanti amici che corrono in Sardegna e sono ovviamente soddisfatti perché Alghero, oltre a essere una bella pista, teniamo presente che la gente ci viene molto volentieri. Noi abbiamo la fortuna di evitare un posto meraviglioso e io questo ovviamente lo so, però stare da cittadino che vive qui da sempre l'ho sottolato un pochino. Mi rendo conto quando vado fuori e trovo gli amici, anche chi ho conosciuto momentaneamente, dicono dove sei, sei di Alghero. Ah, fantastico, vorrei venirci. Quindi, Alghero è un posto che attrae, no? Perché è così. Quindi è chiaro che è un pilota che viene a correre qui, che intanto ha bisogno quasi sempre di un meccanico, di un accompagnatore, porterà la fidanzata, che è sposato porterà la moglie o i bambini, insomma, qualcuno porterà la famiglia. Insomma, sono convinto che in quei giorni la città sarà molto viva, quindi bisogna anche renderla molto accogliente, molto bella, molto, molto festante. Insomma, a me è successa, insomma, l'ultima gara in salita che ho fatto è stato questo ottobre di Iglesias, che è pur vero che è un piccolo centro, ma si trasforma completamente in occasione della manifestazione. Anche Iglesias ha un bel circuito, la gente ci fa volentieri, ma ovviamente non ha le bellezze di Alghero. Però devo dire che il venerdì, che noi eravamo già lì con i meccanici e con gli amici, e io porto in quell'occasione anche mio figlio con me, venerdì e sabato, è stata un'impresa a trovare un posto in ristorante, no, venerdì e sabato notte. Quindi poi, grazie a Dio, anche la giornata di domenica è stata molto bella, la gente ha goduto di una bellissima giornata di festa, c'erano, tra l'altro, non tantissime macchine, ma era prova di campionato, però c'era molta qualità, c'erano macchine veramente interessanti, insomma piloti all'avanguardia, fra i migliori in Italia, quindi vi ricordo che vinse Omar Magliona, insomma è anche una città per dire piccola, così modesta come Iglesias, ha avuto il suo momento di gloria. Ricordiamo infatti che l'Alghero Scalapiccada ha sempre avuto un forte richiamo nel popolo motoristico isolato, ma fatto di numeri Sergio, bisogna, bisogna venire, bisogna testare un po' quella che è il dato numerico della situazione. Noi parliamo sempre di chi viene in competizione qui in Sardegna. Cosa costa partecipare a una gara, ma soprattutto che cosa sono i guadagni di un pilota quando vince una crono scalata o quando partecipa a una crono scalata? Lo vogliamo sapere. Se devo dire la verità devo dire una parolaccia. Comunque tu hai già capito cosa... Niente, chi corre in automobile corre solo per la gloria, per il gusto, per la passione, ma risultati economici non ce ne sono. Per quanto riguarda il costo dipende da con che macchina si corre. Diciamo che comunque il costo più grande è il trasporto e il pernotamento qua. Se noi ai piloti riusciamo a fare un prezzo politico per il trasporto e un prezzo politico per il soggiorno, riusciremo ad avere tanta gente. Ed è un'esca perché il pilota, come diceva bene Roberto, di gente a rimorchio ne porta altra perché chi porta la figlia, chi porta la figlia a tazza, chi porta la moglie, chi porta... I meccanici li devono portare tutti e poi va bene così. Bene, per concludere dunque mettiamo subito un coperchio a queste polemiche che si sono succedute prima che venisse conformata questa crono scalata. Ora sembra che tutto sia pianificato, bisogna adesso organizzarsi al meglio proprio per non fare brutte figure perché sia il comune sia l'ACI si sono impegnati ma soprattutto adesso il Sergio Farris della situazione con tutto l'entourage che lo ha incitato, che lo ha accompagnato vorrà mettere mano a quella che è anche la parte organizzativa logistica propria. Noi in questo campo qua diamo solo consigli, non possiamo dare... Consigli ben volentieri a disposizione, l'ho detto al sindaco, l'ho detto al presidente dell'ACI, io sono pronto e a disposizione. Adesso voglio dirvi una cosa però, non è che adesso che abbiamo raggiunto il traguardo vi dimenticate della scalapicata. È possibile, è possibile. Noi ci ricordiamo di tutto eh. Noi ci ricordiamo di tutto. Ma ricordarvi non solo mentalmente ma anche di continuare a dirlo. Assolutamente. Spero invece non ti dimentichi tu di noi. No, no. Vieni ogni tanto a trovarci. Adesso poi faccio una proposizione a Nicola Niedu. Avrei un piacere che al resoconto della scalapicata per la premiazione ci fosse ospite d'onore e ci cantasse due canzoni Valerio Scano. Ah, va bene. Questo è un invito. Non sono il manager di Valerio Scano. Sì, amico. Sì. Amico. Benissimo. Allora, siccome il tempo stringe non posso far altro che ringraziare Sergio Favis. Ma pensavo volesse Belen Rodriguez per esempio, no? Che è meglio. Non canta però Belen. A lui piace uno che canti. Stiamo parlando di canzoni, non stiamo parlando di altro. No. Perché Belen Rodriguez adesso da qui a ottobre ci avrà due tette che sembrano due paraburghe perché sarà la tana. Nicola ha voluto deviare la maniera di pilotare di Sergio Favis in altro campo e quindi fuoristrada dalla cronoscalata. Bene. Ringraziamo Sergio Favis che ha partecipato a questa intervista ma soprattutto Roberto Salaris. Grazie. A partecipare sempre un componente che attualmente. Assolutamente. È uno dei più attivi. È un pilota. È un pilota. È un pilota. Io volevo dire che se la tecnologia lo consentirà la mia macchina è a disposizione. Nel senso che l'ultima gara che io feci a Scala Piccari nel 2010 prima che la sospendessero. Sì. Mi ricordo benissimo. Però se la tecnologia ce la consentirà la mia macchina è a disposizione. Si può tranquillamente vedere la gara in diretta dall'interno quindi con camera car. Bellissimo. E così chi non è sul circuito può vederla su internet. Assolutamente. Assolutamente. Grazie.